Una volta si diceva che era cosa nostra tenere tutto sotto controllo, partendo dall'assunto che la città, ma tuttavia la provincia più in generale, fosse lo zoccolo duro della vecchia mafia, quella che controllava ogni cosa e che preferiva tenere riflettori spenti sugli aspetti sociali che potessero destabilizzare il territorio, quantomeno nelle forme più evidenti. La spiegazione sociologica era che non venissero consentiti episodi di microcriminalità se non ghettizzati in qualche quartiere di periferia. Mai infatti si erano registrate tali e tante violenze nel suo salotto buono, ma stando alle cronache di certa stampa le cose non sarebbero cambiate dalle parti di Cosa Nostra, anzi, ed allora quali possono essere le cause che spingono tanti giovani a degenerare nel caos criminale vero e proprio, visto che non è ormai più certamente possibile derubricare il tutto a ragazzate del sabato sera. Lo abbiamo chiesto al dottor Antonio Sparaco, responsabile del coordinamento aziendale per le attività di prevenzione e dipartimento salute mentale dell'ASP di Trapani, che in questi mesi si sta occupando proprio di progetti legati al bullismo minorile, che ha tracciato una linea comune con gli ultimi fatti di cronaca nel paese. Trapani, Napoli, Milano, Pavia, Roma, tutti episodi che si collegano tra loro ma che denunciano un grave fatto, questo dell'escalation continua ed aumento continuo di fenomeni di violenza nei confronti di coetanei o addirittura ai minori. Noi stiamo lavorando molto su questo fenomeno, facendo delle attività proprio di prevenzione sul bullismo nelle scuole, parlando con i ragazzi, parlando con gli insegnanti, non trascolando l'altro fenomeno subito collegato che è il cyberbullismo. Come voi sapete i ragazzi oggi usano tantissimo i social e per cui questi media, che danno la possibilità di raggiungere una moltitudine di ragazzi contemporaneamente, stanno provocando un aumento vertiginoso proprio dei casi. Non solo disagio sociale, dunque, alla base degli atti di bullismo? Ma no, assolutamente no. Abbiamo visto che il fenomeno tocca trasversalmente tutte le fasce della popolazione. Bisogna però dire che il disagio sociale legato allo sgretolamento della famiglia, a un nuovo assetto familiare, sta portando avanti una nuova modalità di crescita, quindi una personalità molto fragile che ha bisogno di atti forti per affermarsi nella società. I ragazzi oggi attuano proprio degli atti aggressivi per raffermare il proprio io all'interno della società, se non altrimenti diventano soggetti anonimi.